L'ambasciatore Luca Tanasio, ucciso in un attentato in Congo insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista, era stato in Cilento per ricevere il premio Nassiria per la pace lo scorso ottobre all'Icusati, la frazione di Camerota. L'ideatore del premio, il giornalista Vincenzo Rubano, ha postato su Facebook alcune foto per ricordarlo. Ti ricorderemo per sempre così, spensierato, e con la tua toccante carica umana, Rip Luca, ha dichiarato Rubano, mentre il sindaco di Camerota, Mario Scarpitta, ha espresso il cordoglio suo personale dell'amministrazione. Io e mia moglie abbiamo tre bambine, la più grande ha tre anni e mezzo e le gemelline due anni e mezzo. E quando dico che sono ambasciatore in Congo, tutti sono stupiti, ci dicono che è pericoloso. Ma partiamo da un presupposto, fare l'ambasciatore è un po' come una missione, quando sei un rappresentante delle istituzioni, hai il dovere morale di dare l'esempio. Queste le parole che pronunciò nell'occasione dell'incontro con il sindaco. Addolorato della scomparsa dell'ambasciatore, anche il consigliere del direttivo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano Alburni, Rosario Cairone, nonché sindaco di Trentinara, anche egli su Facebook ha pubblicato le foto dell'incontro con Luca Tanasio, che aveva visitato il paese e volato sul tetto del Cilento.